Buongiorno a tutti, ormai mancano pochi giorni all'inizio della Senza 2016, tanti gli eventi in programma, molti dei quali organizzati dall'Associazione Voghera E che oggi ci ospita. E siamo qui proprio per raccontare alcuni degli eventi insieme ai protagonisti. Partiamo da Francesca Turini, portavoce dell'Associazione Voghera E. Siamo qua noi come associazione, come Voghera E, abbiamo partecipato a un bando che è stato indetto proprio dal commissario, proprio per l'organizzazione di alcuni eventi, per la nostra festa dell'ascensione. E così le nostre proposte si sono concentrate soprattutto anche su realtà e quindi su iniziative di realtà giovanili, di ragazzi che fanno diverse attività. E proprio per questo motivo abbiamo proposto al commissario che sono state ben accolte. All'inizio sarà quella del giovedì dove verrà inaugurata una mossa di giovani fotografi. Siamo qua con Francesco Carca, curatore della mostra e collaboratore dell'Associazione Voghera E che ci parlerà appunto della mostra fotografica Giovani Obiettivi. Qual è il tema principale delle foto? Quest'anno Orfani della Senzia abbiamo cercato di organizzare una mostra fotografica dedicata a giovani, giovani talentuosi, giovani professionisti ma anche giovani amatori insomma, che hanno per diretto la passione della fotografia. Sono cinque, abbiamo selezionato cinque giovani, Fabio Samoirago, Gaia Servidio, Riccardo Nicora, Valerio Maruffi e Paolo Monti. Il tema quest'anno è un tema libero, cioè ognuno porta i suoi soggetti, la sua passione, ciò che vuole ritrarre. Quindi andiamo dal territorio dell'Oltrepo al viaggio alla città, alla metropolitana, alle metropoli, quindi spazio a 360 gradi. Lo spazio, ripeto, è presso l'ex caserma sotto i portici della biblioteca, aperti, inauguriamo alle 18.45, sarà aperta per tutti i tre giorni della Senzia. Come mai avete deciso di fare questa mostra? Cosa rappresenta per voi? Beh, dare appunto spazio, c'è appunto un ammanco quest'anno, c'è degli spazi vuoti, quindi abbiamo cercato di organizzare questa mostra libera, aperta, un ingresso libero, con nessun tipo di regole, insomma, abbiamo dato una libertà, non è un concorso, è semplicemente uno spazio dedicato ai giovani che in questa città a volte viene meno. È con noi uno dei fotografi, Fabio Salmoirago, parlaci un po', com'è nata la tua passione per la fotografia? La mia passione per la fotografia, diciamo che nasce addirittura probabilmente dall'infanzia, io mi ricordo che fin da bambino ho sempre portato avanti questa passione, che poi una decina d'anni fa è diventata addirittura la mia professione, quindi in realtà, vabbè, le immagini che esporrò sono immagini realizzate all'interno della passione fotografica e non dal punto di vista professionale, ecco. A cosa ti ispiri principalmente nelle tue foto? Beh, l'ispirazione è ampissima, nel senso che in questo caso, vabbè, espongo delle foto che sono fotografie distritte, quindi il reportage urbano, l'ispirazione va a fotografi dall'Henri Cartier-Bresson a Elio Tierwitt, per dirne giusto un paio, e quindi diciamo che l'ispirazione va ai classici della fotografia, ovviamente poi c'è una contaminazione sul gusto moderno, ecco. Come mai hai deciso di, appunto, ispirarti allo street per queste foto da presentare alla mostra? Ma innanzitutto perché è un genere che secondo me è molto fresco e molto immediato e è anche molto interessante, almeno dal mio punto di vista, perché comunque sono piccole storie, sono piccoli frammenti di storie in un certo senso incompiute, tu ne vedi solo una parte, non puoi creare con la fantasia una storia guardando ogni singola foto, questa è una cosa che a me piace tanto della street, ecco. A seguire tra l'altro quella di Spazio 53, quindi anche questa è una mostra fotografica, poi il venerdì sera, quindi partirà alle ore 21 con il teatro d'arte varia Under Teatro, una compagnia di giovani vogheresi, che è su un'opera cantatrice calva. Siamo qua con tre degli attori dell'opera La Cantatrice Calva, spettacolo che andrà in onda venerdì 6 maggio alle 21 al Teatro San Rocco. Avete scelto di portare in scena questa celebre storia, uno dei primissimi esempi di teatro dell'assurdo, in cui la vicenda subisce uno straniamento tramite l'utilizzo esasperato di frasi fatte, dialoghi contrastanti, luoghi comuni. Come mai questa scelta? Beh, diciamo che allora tutto nasce dalla volontà del nostro regista, che è Bruno Cavanna, che ormai a quanto tempo fa? Un anno e mezzo fa? Ci ha proposto questo testo, perché per una buona dose di fortuna, diciamo, ci siamo trovati proprio in sei, il numero, tre uomini e tre donne, quindi proprio il numero esatto per portarla in scena. L'abbiamo letto, ci siamo tutti subito innamorati del testo, di quanto fosse da una parte molto divertente, dall'altra estremamente critico, estremamente satirico quasi, nei confronti della società che Ionesco viveva, che era quella dagli anni 50, diciamo, perché alla fine è in quel periodo che fu scritta. Niente, ci siamo subito innamorati di personaggi, situazioni, l'abbiamo conseguentemente deciso di portarla in scena, non alla maniera classica, ovvero senza emozioni da parte degli attori, dando estremo risalto al testo e quindi alla futilità delle vite di questi sei personaggi che danno un senso proprio alle frasi che dicono, quando in realtà senso non ce n'è. Però abbiamo mantenuto la carica satirica che quest'opera portava con sé, nonostante l'abbiamo poi successivamente alleggerita nei toni, abbiamo trovato diverse situazioni che finora sono risultate comiche, poi vedremo. E niente, siamo molto soddisfatti, diciamo, del lavoro che abbiamo fatto. Questa sarà la nostra sesta replica e aspettiamo delle critiche per poterla migliorare ancora. Chi sono i protagonisti? Dunque, in quest'opera non ci sono dei protagonisti, perché almeno a mio avviso, e penso anche secondo tutti gli altri, tutti i personaggi hanno la stessa importanza. Sempre se i personaggi sono. Sempre se i personaggi sono, perché sono più che altro degli stereotipi della classica persona borghese. Più che altro, magari alcuni appaiono più di altri. Ad esempio, la cameriera e il pompiere hanno meno tempo in scena rispetto ai signori Martin e ai signori Smith. Però a loro modo sono tutti importanti i personaggi. Cioè, se ne togli uno, l'intera opera crolla, secondo me. Perché tutti quanti contribuiscono a rendere ancora più assurdo l'ambiente, a rendere ancora più divertente e appunto critica, come ha detto lui, tutta la questione. E la domanda più difficile me la sono presa io. E no, penso di non avere nient'altro da dire riguardo a questo. Venite a vederci! Come nasce la vostra passione per il teatro? Allora, fondamentalmente ci siamo conosciuti quasi tutti all'interno del laboratorio teatrale extracurricolare del liceo classico di Voghera. E poi ovviamente abbiamo creato durante gli anni di questo corso, che è coordinato dal nostro attuale regista della compagnia Bruno Cavanna, durante appunto gli anni abbiamo creato un gruppo molto affiatato e questa passione è cresciuta talmente tanto che alla fine del corso, quindi alla fine del liceo, abbiamo deciso di formare una compagnia. Quindi noi siamo compagnia dal 2013 come under teatro. e appunto poi si sono uniti, oltre ai ragazzi del liceo, anche altri nostri amici appassionati. Sì, insomma, noi facciamo parte un po' del nucleo storico, però sono uniti anche altre persone appassionate appunto di teatro e quindi è nata un po' tutto da quell'esperienza del laboratorio che è ancora attiva e è sicuramente una delle iniziative molto importanti da sostenere assolutamente nel liceo. E quindi, insomma, noi adesso speriamo di continuare con la nostra esperienza, con la compagnia, che adesso appunto è ancora all'attivo con la cantatrice Calva, la stessa replica, e stiamo lavorando a due nuovi progetti che pensiamo di poter presentare durante l'estate o comunque nel prossimo autunno. Quindi, insomma, siamo ancora molto attivi e pieni di nuovi progetti, quindi, insomma, seguiteci. A seguire poi Flavio Oreglio, la presentazione del suo libro Le origini, una vita contro umano. Immagino ci sia grande soddisfazione per l'associazione Voghera E che è riuscita a portare appunto a Voghera anche Flavio Oreglio, noto cabarettista a livello nazionale. Certo, Flavio Oreglio è un cabarettista a livello nazionale che ha avuto ampio spazio in televisione, che ha pubblicato un libro di poesia catartica che ha avuto un grandissimo successo in tutta Italia. Però noi l'abbiamo voluto invitare anche proprio come, non dico con cittadino, ma come oltre padano. Cioè le radici di Flavio Oreglio sono in Valle Staffora, è originario della zona di Varzi. E vorremmo proprio sottolineare questa sua duplice dimensione nazionale e locale. Ci tengo a sottolineare il fatto che Flavio Oreglio in un certo senso ha aperto una strada per la valorizzazione dell'oltrepo. Io sono un po' brallese da adozione, nel senso che trascorro l'estate a Brallo. Io ho apprezzato moltissimo il fatto che Oreglio abbia dato vita a Pregola, quindi in una zona assolutamente lontana dai centri di promozione culturale, eccetera, ad un circolo di poeti catartici che ha avuto non solo in estate, quando c'è tanta affluenza di persone, ma anche in inverno, anche in terribili serate di nebbia, un grandissimo successo. Per cui nel castello di Pregola, molto ben risistemato da giovani imprenditori nuovi, Oreglio ha fondato questo circolo, ha portato dei cabarettisti come lui, di livello nazionale, che hanno dato vita a serate di ristorazione e spettacolo di livello veramente alto, che hanno avuto molto successo. Quindi non abbiamo solo chiamato un grande nome, abbiamo chiamato un grande uomo dell'oltrepo che sta lavorando per valorizzare il territorio. E quindi, diciamo così, l'evento finale della domenica, quindi della banda musicale di Voghera. Quindi per una buona proposta, una buona varietà, quindi per cercare di riempire un po' questi tre giorni dell'ascensione. Voi chiuderete domenica sera l'assenza 2016, al posto dei soliti fuochi d'artificio che quest'anno sono stati aboliti dal commissario Pomponio. Grande responsabilità, direi. Esattamente, sì, quest'anno abbiamo il piacere appunto di chiudere la festa dell'ascensione, quindi io parlo a nome del corpo musicale Città di Voghera, che è diretta dal maestro Franco Garbarini. e quindi abbiamo appunto questo impegno per domenica sera. Partiremo quindi verso le 21.30 da Piazza Duomo, percorreremo tutta la Via San Lorenzo, la Via Emilia, fino ad arrivare poi in Piazza Meardi, dove avremo un breve intrattenimento musicale. Che tipo di repertorio avete scelto per la serata? Ma faremo dei brani popolari tratti dal folklore italiano. Sono Mauro Massone, cofondatore dell'Associazione Vogheraè, giusto per puntualizzare ogni spazio che abbiamo a disposizione, sono quelli che il Comune ha affidato all'interno del bando a cui abbiamo partecipato, per cui la mostra fotografica verrà svolta in caserma, mentre abbiamo approfittato dello spazio affidato, diciamo, che è quello del Teatro San Rocco, per fare le manifestazioni teatrali che verranno svolte il venerdì, entrambe appunto presso il Teatro San Rocco, mentre poi la manifestazione, quella che è riferita alla banda musicale, inizialmente pensata sempre al chiuso, in realtà è stata poi spostata in un ambiente aperto, per colorare un po' di più le strade della nostra città in questa occasione di festa.